Devo dire che poi oggi sono particolarmente contento perché vedo che un'iniziativa che è stata la prima legge del nuovo Consiglio regionale appena entrato in carico, l'approvazione all'unanimità di quella legge che è la legge sull'identità toscana e che così nel senso comune è passata come la legge sulla fascia, ovvero il segno distintivo per il Consigliere regionale ormai è imitata, è stata approvata ieri un'analoga disposizione legislativa dal Consiglio regionale del Veneto. Insomma questa volta Zaia è venuta accoppiata da noi.